Sarebbero altre due le persone coinvolte nell'omicidio di Cristian Martinelli, avvenuto lo scorso venerdì a Casale Monferrato, oltre a Capstream e Nicolai, il ventenne moldavo, primo sospettato per l'omicidio, di cui il GIP del Tribunale di Vercelli ha disposto la custodia cautelare in carcere senza ancora covalidarne il fermo. Per quest'ultimo bisognerà attendere la decisione del giudice. Sono questi gli ultimi aggiornamenti pronunciati dai carabinieri di Alessandria che coordinano e conducono l'indagine dell'uccisione del 35enne, di cui si hanno ancora tante domande e poche risposte. Quel venerdì Cristian Martinelli si trovava a Casale perché doveva andare dal medico, poi avrebbe preso il treno per tornare a Morano Po, dove abitava, ma in quella casa non è mai rientrato. Alla sera era stato trovato agganizzante, ma era comunque riuscito a dire che lo avevano picchiato. Subito dopo l'arrivo in pronto soccorso, dove i medici non avevano trovato nessuna lesione superficiale, ma solo alcune emorragie interne e uno dei due reni rovinato, poi il decesso. Bisognerà attendere l'esito dell'autopsia per conoscere maggiori dettagli sulla morte del ragazzo, di cui si saprà qualcosa soltanto nei prossimi giorni. E su questo omicidio violento e incompreso, anche la famiglia della vittima non riesce a darsi una spiegazione su quanto accaduto. Christian, come hanno dichiarato, era un bravo ragazzo, senza un'occupazione fissa, ma sempre pronto per fare qualche lavoretto. Adesso vogliamo giustizia.